Inseriamo sul tema degli edifici scolastici, del patrimonio culturale della città e del potenziamento della viabilità cittadina attraverso una grande elettrificazione di ieri. Il termine per la presentazione della domanda è il 4 di giugno, stiamo lavorando il giorno e notte e siamo pronti a presentarlo, l'abbiamo illustrato al sottosegretario. Grande tema per far venire i turisti, alvega, galga e freddosa, non di lungo sapete, conosce benissimo Giorgio. Il raduncio ferroviario è andorati nella rigura, dell'acquedotto vi ho parlato, la variante dell'Aurelia Biss di Imperia. Sono più di 15 anni che siamo fermi sull'Aurelia Biss. I tratti di Sanremo sono più o meno completati, ne manca solo un pezzo, Imperia non ha mai avuto nulla, abbiamo presentato i progetti. la partenza finalmente e i finanziamenti ci sono del traforo Arno Cantarazzi. La variante Ponte d'Assio-Imperia come completamento della statale del Totto che oggi lì si ferma e quindi non può avere gioco in città. Questi sono i temi principali delle schede che ho consegnato alla Bicomule, al quale abbiamo formulato gli offri migliori per i primi.